No Regalo Ciao Benjamin Ciao Ciao che ha fatto sul piazzale cortese vince non ti appoggiazzò un specchio però fate favore 100 per cento diamo carico e ma finale questa foto dai solo la manetta avance non ti appoggia sullo specchietto però fate favore che va così al cento per cento diamo carico e ma finale questa foto si deve spostare chi è chi è chi è adesso il primo tira la tira vai facevo ok ok carica carica man Grazie a tutti.